Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola alla nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, venerdì 16 aprile 2021. Due gli argomenti che tengono banco. Da una parte la richiesta delle regioni al governo di poter riaprire le attività economiche per tornare a vivere dall'altra, la decisione proprio del governo di approvare il documento di economia e finanza, il DEF, nel quale si prevede uno scostamento di altri 40 miliardi di euro da destinare proprio alla ripartenza. Il tutto, mentre sia i ricoveri, sia i decessi, ma soprattutto i contagi restano ancora alti in Italia. Ma andiamo subito sul Corriere della Sera che titola Maggio, tornano le zone gialle. Draghi alla Lega, intanto no ai dispetti. L'amministratore delegato di Pfizer assicura a settembre faremo la vita di prima. Ristoranti e spostamenti anche in base ai vaccini. Le regioni bisogna allentare le misure. Meloni, sfiducia a Speranza, il ministro Speranza naturalmente. E leggiamo questo richiamo. Il prossimo mese l'Italia potrebbe colorarsi di giallo. Draghi vuole che le riaperture siano graduali, ma le regioni spingono per allentare le misure. Ciò potrebbe avvenire anche sulla base delle vaccinazioni. L'amministratore delegato di Pfizer sostiene che entro l'autunno ci sarà il ritorno alla normalità. Non si allenta la tensione politica. Il premier alla Lega no ai dispetti e Meloni vuole sfiduciare il ministro Speranza. Dal decreto sostegni aiuti per 40 miliardi, lo abbiamo detto in apertura, è la decisione del governo che ha varato il DEF, il documento di economia e finanza, che prevede una crescita del PIL per quest'anno del 4,5%. Il debito pubblico salirà fino a sfiorare il 160% del PIL, mai così alto negli ultimi 100 anni. E poi la parte politica, la sfida del premier per cambiare passo. Francesco Verderami scrive tutto in due settimane sul fronte della pandemia e su quello dell'economia. La sfida di Draghi di qui a fine mese sarà rendere visibile una netta discontinuità rispetto al governo precedente. E poi vedete a centro pagina questa fotografia scattata a San Paolo del Brasile, lo scatto che ha vinto il World Press Photo 2021. La miglior foto dell'anno nel concorso World Press Photo 2021 è del danese Mads Nissen, uno scatto realizzato a San Paolo che mostra una paziente malata di Covid ricevere un abbraccio protetto. E poi ancora l'editoriale, questa volta a cura di Massimo Gaggi, che si occupa dei 20 anni persi in Afghanistan, il ritiro americano e la NATO. Leggiamo. Ritirando le truppe americane dall'Afghanistan, Joe Biden archivia l'illusione coltivata vent'anni fa dai neoconservatori repubblicani, ma poi diffusa anche tra i democratici, di poter esportare la democrazia arginando con la presenza militare feroci dittature che non rispettano i diritti civili. Buone intenzioni che nel primo scorcio di questo secolo si sono infrante contro realtà storiche difficili da modificare o hanno addirittura fatto saltare precari equilibri dall'Egitto alla Libia, dallo Yemen alla Siria. La decisione coraggiosa e controversa del presidente democratico va vista a due livelli. Quello dei rapporti internazionali con i rischi di un Afghanistan di nuovo radicalizzato che può tornare base di gruppi terroristici, mentre Washington pensa di sorvegliare e, se necessario, intervenire da lontano usando la tecnologia dell'intelligence digitale e dei droni. Ma è importante anche l'altro aspetto dei riflessi interni negli Stati Uniti stremati dall'impegno bellico più lungo della loro storia. Il Vietnam, l'altro conflitto senza fine, durò solo otto anni. Qui Biden, lontano anni luce da Donald Trump per mille aspetti, assume una posizione simile alla sua. La guerra in Asia centrale, liquidata come Total Vast, una colossale distruzione di risorse, non solo economiche. C'è di più. Biden si appropria di tre caposaldi di Trump, la fine della guerra, ma anche l'aiuto ai forgotten men, l'America impoverita e il piano per le infrastrutture, cercando di trasformare, infatti, quello che il suo predecessore ha annunciato per anni, ma non ha mai realizzato. E passiamo alla Repubblica. Il quotidiano che invece titola il calendario della ripresa si riapre dal 3 maggio. Oggi la cabina di regia, pressing delle regioni, cautela di Draghi, meglio ripartire senza dover tornare indietro. In zona gialla sia bar e ristoranti a pranzo. Scuola in presenza ovunque, posti limitati in cinema e teatri. Lega e melone intanto contro speranza, Letta e Conte è una vergogna. E leggiamo allora il richiamo. La svolta sulle riaperture arriverà all'inizio di maggio. Le scuole torneranno in presenza anche in zona rossa, sia bar e ristoranti in zona gialla e ai primi di giugno ripartiranno altre attività. Il premier Mario Draghi punta su riaperture graduali e irreversibili per evitare di decidere la ripartenza di un settore e poi dover tornare indietro. Sarà decisivo l'andamento dei contagi da Covid e del piano vaccinale. Lega e Fratelli d'Italia attaccano il ministro della Salute Roberto Speranza, difeso da Letta e Conte. Il commento serve uno scudo per l'economia. Carlo Cottarelli scrive, la parola magica di questa settimana è ripartenza. Tutti ne parlano, tutti la vogliono, ma che prospettive ci sono effettivamente per una rapida ripresa? Possiamo essere ottimisti? All'interno, nelle pagine interne di Repubblica, la risposta a questi interrogativi che sono davvero decisivi per il futuro del nostro Paese. E poi il racconto. Saremo a lungo in felicità vigilata. Natalia Aspesi scrive, vaccinate o no, le star della pandemia, cioè noi vecchi, non abbiamo tutti una gran fretta di tornare a correre e saltellare o anche solo di ambulare con un necessario bastone, liberi e felici, fuori di casa. E poi Fink, il capitalismo ci ha salvati dal virus, seguite l'esempio di noi americani, privacy e il codice dell'intelligenza artificiale, le nuove regole di Bruxelles. E passiamo alla stampa, il quotidiano di Torino che vedete in alto, mostra Berigni che ha ottenuto il leone d'oro alla carriera e lui ha risposto, è un onore immenso. E poi l'apertura ovviamente dedicata alle vicende di cui abbiamo già parlato. Riapriamo tutto in un mese. Draghi, Salvini, basta dispetti dal Premier, alto là alla Lega, mentre ai fratelli d'Italia chiede le dimissioni di speranza. Il progetto delle regioni per bar, ristoranti, piscine e terme a giugno, via i divieti. E allora leggiamo anche qui. Arriva il piano delle regioni, di fronte al calo dei contagi, tutto aperto in un mese. Il progetto presentato al Governo riguarda bar, ristoranti e piscine. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del Ministro Speranza e Draghi, bacchetta la Lega, basta dispetti. Tra aprile e giugno arriverà il triplo dei vaccini. Per il Ministro della Salute si può guardare con fiducia al futuro, dal momento che presto saranno al sicuro anziani e fragili. E poi la lettera, Stocco, Cremonini, la musica riparta e Stefano Bonaccini che parla. La polemica social, io, Berlino Est e Gasman, spia Enrico Ruggeri. Ma anche qui è un argomento di poco conto. Il Governo mette 30 miliardi oltre il recovery. Leggiamo, ha provato il DEF. Prima gli aiuti alle imprese e il rilancio degli investimenti per risalire dal burco nero della crisi. Dopo, con la pandemia alle spalle, si affronterà il problema del debito e la strategia delineata dal Governo nel DEF, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Anche il via libera la richiesta di scostamento di bilancio di 40 miliardi e un altro tassello della politica economica tracciata dall'esecutivo. Positiva la spinta da 66 miliardi con lo sblocco di 58 grandi opere. Il commento, piano, giusto, pieno di rischi, avverte Marco Zatterin. Se va bene, non siamo rovinati, forse. Il DEF con cui il Governo Draghi prova a rimettere in carreggiata l'Italia, piegata dalla tragedia pandemica, indica un percorso sulla carta credibile. Lo fa con una deviazione di bilancio senza pari in Europa, 40 miliardi, mentre tenta il rilancio scalando una sdrucciolevole montagna di debito, costruendo reti, investendo sulle persone, riformando il riformabile. Può funzionare. E passiamo all'avvenire il giornale dei Vescovi italiani che titola Mai fine pena mai. È il gioco di parole per il pronunciamento della Corte che parla di incostituzionale l'ergastolo ostativo ai condannati non collaborativi. La lotta alla criminalità non va fermata al Parlamento un anno per la legge. Il pronunciamento riguarda dei reati di mafia e di terrorismo, polemiche dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. E allora leggiamo. L'ergastolo ostativo è in contrasto con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La consulta, chiamata ad esaminare le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell'ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso, parla chiaro, ma decide anche di non intervenire subito e di rimandare l'intervento al Parlamento, che avrà un anno di tempo per modificare la norma tenendo conto della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Si vuole evitare, insomma, che un vuoto legislativo si possano avvantaggiare le mafie. La sentenza innesca una catena di reazioni opposte nel mondo politico, critico Salvini, per i mafiosi l'ergastolo non si tocca, perplessi il Movimento 5 Stelle, Mirabelli del PD, ragioni forti ma intervenire con equilibrio. E questo è l'auspicio naturalmente di tutti. Intanto, vedete a centropagina questa fotografia, Cuba senza Castro ma resta castrista, Raul cede anche la segreteria del partito. La rivoluzione ha perso la R e dopo 62 anni ha iniziato il cammino meno appariscente della sua evolution. Era il 2016 quando Raul Castro, sul palco del VII Congresso del Partito Comunista Cubano, aveva preannunciato il nuovo corso. Questo sarà l'ultima assise della generazione storica, disse. E poi le vicende italiane con ultimo deficit per ripartire, ma Draghi ora frena Salvini. Il governo stanzia altri 40 miliardi di deficit e approva il DEF. Se i vaccini decollano, il PIL rimbalza del 4,5%. Il deficit 2021 sfiorerà il 12%, debito record al 160%. Il premier non vede riaperture prima del 3 maggio, blinda speranza e durante le consultazioni sul recovery plane avverte il carroccio, basta dispetti e critiche. E poi, vedete, variante e sanità in crisi, Brasile strage di bambini, oltre 800 uccisi dal Covid. E leggiamo anche un passo dell'editoriale di Danilo Paolini, ergastolo o stativo da cancellare il compito onorevole. È praticamente la spiegazione del titolo di apertura che ha dedicato proprio a venire alla vicenda della decisione della consulta sul ergastolo o stativo. Le parole hanno sempre un peso se poi trovano un posto in una decisione della Corte Costituzionale sono in grado di lasciare il segno. Il fine pena mai non è compatibile con gli articoli 3 e 27 della Costituzione italiana, oltre che con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Non garantisce, infatti, l'ugualianza di tutti davanti alla legge, né tantomeno in grado di realizzare la finalità rieducativa della pena. Si parla qui dell'ergastolo cosiddetto ostativo, ovvero dell'impedimento previsto dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, alla concessione dei benefici, possibili per gli altri argastolani, ai condannati per reati molto gravi, quali quelli di matrice mafiosa e terroristica, che non abbiano utilmente collaborato con la giustizia. Ebbene, dopo averlo sostenuto su questo giornale, in sparuta compagnia di altre voci, adesso possiamo affermare con il conforto dei giudici costituzionali che quella norma viola la carta. I quali giudici avevano cominciato a trattare la spinosa e indubbiamente delicata materia prima di Pasqua, ma l'hanno poi lasciata decantare fino a ieri, quando hanno scelto di adottare uno schema ormai piuttosto consolidato nella giurisprudenza della consulta. Non una sostenza di illegittimità, bensì una sorta di avviso al Parlamento, che avrà poco più di un anno per provvedere con una legge a ripristinare la legalità infranta dalla pena di morte nascosta, come l'ha chiamata Papa Francesco. In caso di inerzia del legislatore sarà la Corte a decidere. Ebbene, perciò che le camere comincino a lavorare al più presto, anche perché la questione non è nuova e non è inattesa. C'erano state avvisaglie precise due anni fa con una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e con un pronunciamento della stessa consulta sulla concessione dei permessi premio agli ergastolani ostativi. Mentre nella trattazione di quest'ultima questione di legittimità sollevata dalla Cassazione, anche l'Avvocatura dello Stato, che rappresenta in giudizio il Governo, aveva aperto uno spiraglio ipotizzando che la decisione sui benefici possa essere lasciata alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza in base all'esame dei singoli casi. Nessun automatismo, insomma. E poi via via il resto dell'articolo, ma indubbiamente è un tema molto importante. Seguiremo questo anno di tempo concesso al Parlamento per mettere mano alla riforma di questa norma. E poi il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, che parla proprio del deficit all'11,8% e debito record al 160%, praticamente. Complice il nuovo deficit aggiuntivo da 40 miliardi, approvato ieri per finanziare il decreto sostegni bis. Il documento di economia e finanza, esaminato dal Consiglio dei Ministri, fotografa il debito più alto degli ultimi 100 anni. Nel 2021 arrivava al 159,8% del PIL, a spingere il passivo, e un altro primato, il deficit, schizza all'11,8%, 2,3 punti in più dell'anno scorso. Il Ministro Franco, ridurre il debito a bussola per il Governo, draghi ai Ministri, centrale l'obiettivo di crescita. Semplificazioni, 110% senza doppia conformità, codice appalti da rivisto. Leggiamo, si scalda il lavoro sul decreto semplificazioni, che con proposte, testi normativi e relazioni che arrivano a Palazzo Chigi da singoli ministeri o commissioni interministeriali. Dalle prime bozze emerge un codice degli appalti semplificato ma non cancellato per le valutazioni ambientali, obiettivo di tagliare i tempi da 310 a 170 giorni, appalti integrati, ipotesi di proroghe su danno erariale e abuso d'ufficio, affidamenti senza gare, estensione del silenzio assenso e super bonus 110% senza doppia conformità. E poi, vedete a centropagina, uffici vuoti al 70% via agli scambi. Spazi aperti ai residenti e alla contaminazione sarà l'evoluzione degli uffici svuotati dalla pandemia e smart working. Nelle moderne torri delle grandi città l'occupazione è sotto il 30%. C'è abbondanza di superfici vuote, di cui l'iniziativa Hub Quarter, appena lanciata in Italia, una rete per mettere a sistema la condivisione di spazi inutilizzati. E passiamo ai giornali di ambito regionale, quelli che si occupano di realtà territoriali anche abbastanza grandi. Per esempio, la Gazzetta del Mezzogiorno si occupa di Puglia e Basilicata. Covid, gli aperturisti all'attacco. Le regioni varano le linee guida per far ripartire l'Italia, ma il ministro Speranza invita a tener conto dei numeri ancora preoccupanti. Dal governo, 40 miliardi alle imprese. La pugna sogna l'arancione, ma rischia di restare in rosso per i troppi ricoveri. Leggiamo. La gestione della campagna vaccinale pugliese è passata ieri alla protezione civile. Il piano consegnato al commissario Figliuolo prevede la conclusione delle somministrazioni agli over 60 nella prima settimana di luglio. Intanto i dati sui contagi sembrerebbero condannare la Puglia a rimanere in zona rossa per la sesta settimana. La rabbia dei ristoratori. Vogliamo soltanto lavorare. E poi le notizie che vengono da Taranto. Le acciaerie d'Italia arriva Bernabè, l'ex Ilva inizia una nuova era. Mentre a Melfi Stellantis giura nessun taglio. I sindacati, però, i dubbi restano. Saltano gli appuntamenti a Bari, i medici di base pronti, ma non ci sono i vaccini. Ed è questo un tema ricorrente di questi ultimi giorni. E passiamo al messaggero. Il giornale della Capitale, che titola Lazio, AstraZeneca ai volontari. Regione apripista sul vaccino anglo-svedese. Dosi ai cinquantenni che lo vorranno. L'assessore D'Amato. Terminati gli over 60, scendiamo con l'età. Speranza rassicura. È un vaccino sicuro. Il vaccino AstraZeneca anche agli under 60 a partire dai cinquantenni, ma su base volontaria. Questa è la scelta del Lazio di fronte al rischio che, quando tutti gli over 60 saranno stati immunizzati, centinaia di migliaia di dosi del vaccino sviluppato a Oxford restino inutilizzate. Al momento restano 100.000 dosi. Speranza è sicuro. Sarà superata dunque la raccomandazione dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, la quale suggerisce di non utilizzare AstraZeneca con chi ha meno di 60 anni. E poi, a lavoro per regole su cinema e ristoranti, il governo vuole riaperture graduali. A maggio tornano il giallo e le palestre. Il deficit intanto balza, come abbiamo letto, più volte all'11,8%, e il debito al 160%. Ha provato il DEF altri 40 miliardi di scostamento. Ecco gli sgravi per i mutui dei giovani. E poi il pasticcio della Cassa Integrazione Guadagni, meno 280 euro in busta paga. Equivoco sulle norme, 6 milioni di lavoratori interessati. Correzione al decreto legge ristori per i rimborsi. Leggiamo. L'ultimo pasticcio sulla Cassa Integrazione Guadagni rischia di costare fino a 280 euro ai lavoratori che al 25 marzo avevano esaurito le 12 settimane di Cassa Integrazione con causale Covid. Le ulteriori 13 settimane di CIG introdotte dal decreto sostegni infatti risultano fruibili dal 1 aprile per il recupero delle somme necessaria una correzione all'ultimo decreto ristori. Insomma, non ne va bene una in Italia, soprattutto per chi è più in difficoltà. Il mattino il giornale della Campania che titola Recovery, il 40% degli investimenti al Sud. La ministra Carfagna, i fondi potranno crescere con enti virtuosi. La quota mezzogiorno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il 40%. Il ministro Carfagna, la quota potrà crescere migliorando la forza amministrativa degli enti locali. E poi il caso. Il pasticcio della Cassa Integrazione taglio per 6 milioni di lavoratori. Ne abbiamo appena parlato. Poi lo scenario. Il rischio di disperdere gli aiuti in mille rivoli. Ed è questa una grande preoccupazione quella espressa da Enrico Del Colle. Dicono i matematici che se dividiamo una torta di qualsiasi grandezza tra un numero infinito di persone, a ciascuna di esse spetta una quantità pari a zero. Ed è un monito davvero importante. Riaperture avanti ad agio. Il governo frena governatori e Lega. Da maggio aperti bar e ristoranti. Mobilità tra regioni. Campania verso l'arancione. Sceso l'indice del contagio. Ma preoccupa ancora il capoluogo. E infatti vedete anche a centropagina la fotografia di Napoli. Chaos vaccini in fila per tre ore. Il manager accusa gli over 70. Troppi non rispettano gli orari. Ma anche diciamo che l'organizzazione lascia un po' a desiderare. E poi la vicenda di cui si è occupato avvenire. Ergastoli i benefici anche per i mafiosi che non collaborano. La consulta è incostituzionale. Il fine pena mai. C'è un anno per cambiare la legge. Ma è subito scontro. E passiamo e chiudiamo con il Quotidiano del Sud. L'altra voce dell'Italia. Il giornale che si occupa della Calabria. è del mezzogiorno più in generale. Si balla sul baratro, scrive Roberto Napoletano, il direttore di questo giornale. Il paese delle corporazioni che non aiuta Draghi a tirarci fuori dalla crisi. In soli 14 mesi abbiamo fatto 500 miliardi di nuovo debito pubblico. da qui al 2026. Il reddito pro capite medio italiano è il 26% in meno della media dei paesi più sviluppati, che sono i top player. La produttività però è sotto del 17%. È ovvio che un disastro del genere non può essere fatto in un anno. La botta del Covid è pesantissima, ma noi facciamo i conti con 20 anni di disastro italiano. Se ci liberassimo della cultura disgregatrice che ha prodotto questo disastro, scopriremo, dietro la cortina fumogena del talk della demagogia, dell'interesse elettorale dei partiti e dei diktat dei capi popoli regionali, che c'è una macchina esecutiva che in pochi mesi è stata rimessa sui binari giusti e aspetta solo di essere spinta per far ripartire il paese. E chiudiamo con gli ultimi due titoli. Recovery, al sud va il 40% ed è una percentuale netta. L'impegno della ministra Carfagna. E poi la corte dei conti, stronca, aria, carrozzone di inefficienze e sprechi. L'azienda regionale Lombarda che gestisce la sanità appunto in Lombardia. Ed era questo l'ultimo titolo del quale ci occupiamo in questa edizione della nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi. Non andate via, restate con i nostri programmi.